la tazza, il cucchiaio, il bicchiere, il piatto, la padella, la pentola, la forchetta, il coltello, la bottiglia, il tovagliolo, la grattugia, la ciotola, il termos, la frusta, il mestolo, il bollitore, il tagliere, il barbecue, il cavatappi, il setaccio, l'indirizzo, la cartella, la calcolatrice, l'agenda, la busta, il fax, il modulo, la foratrice, la lettera, la lista, l'evidenziatore, il tacquino, l'ufficio, la fotocopiatrice, il francobollo, la graffettatrice, l'imposta, il permesso, l'ora, il tempo, il computer, la tastiera, lo schermo, il computer portatile, il microfono, l'altoparlante, la pila, lo smartphone, il tablet, il navigatore, il link, l'applicazione, le cuffie, la stampante, la chiavetta, la password, l'account, il volume, la ricerca, il supporto, il MICHELLEPRE, il bacino, il pubblico, il pubblico, elle, il maggiore,